che Murigno lo sappiamo che è un fenomeno a sviare l'attenzione sui reali problemi quando gli conviene sai che cosa come devi comportare all'ultima partita è un turno diciamo di riposo però la Roma non ha sfruttato le sue occasioni e questo va detto e noi ci stavano ancora a fare i conti sulla differenza reti facciamo questo, facciamo quello finisce 1-1 tra Servette e Roma una serata assolutamente deludente per i colori giallorossi la Roma che a meno di cose sconvolgenti arriverà seconda a questo raggruppamento una che era in impresa, arriva a secondi in un girone con Slavia Praga, con Sheriff e con Servette Di Bala che completa la sua serata horror da 4, mi dispiace dirlo col massimo rispetto e la massima stima per un campione del genere ma che ad oggi davanti alla porta liscia nel primo tempo nel secondo tira in curva un pallone che era più facile da segnare che sbagliare e poi fa un appoggio ed eravamo sull'1-1 ovviamente ma insomma la Roma avrebbe reindirizzato la partita con anche psicologicamente questo gioco a distanza sul campo dello Sheriff con lo Slavia Praga addirittura sotto ma ancora una volta Federico impariamo una lezione tanto ogni anno ne impariamo di nuove con il senno del poi, sono passati 20 giorni qual'era la partita della vita? qual'era la partita realmente importante? quella da vincere veramente? Slavia Praga-Roma o Lazio-Roma? sì sì, certo se la Roma fosse scesa in campo a Praga con un'altra mentalità e se avesse vinto la partita oggi avremmo commentato un amichevole non ci sono scuse non ci sono alibi non ci sono situazioni arbitrali non ci sono partite che si sovrappongono a proposito adesso non mi fate sentire che la Roma sbaglia approccio, è stanca o è molle a serve col Sassuolo e Reggio Emilia perché ha giocato ci sono i cambi che giochi a Smun finalmente se Di Bala come credo può partire dalla panchina però queste non sono tematiche sulle quali sorridere e fare battutine queste sono tematiche pesanti a parte io non credo sia questo la Roma da tre sì, a parte vabbè c'è sicuramente un problema Mourinho è bravissimo a buttarla in cacciare a mascherare problemi del gioco questo è un problema serio questo è un problema serio perché è una squadra che da tre anni in trasferta ha un rendimento da squadra piccola esatto anche in Europa dove ha vinto anche in Europa l'andamento così penalizzante della Roma è così evidente certificato dai numeri che sono figli delle prestazioni in trasferta è troppo facile spiegarlo in questo modo sarcastico un po' naif un po' sugli aneddoti sulle battute il sorriso guascone perché Mourinho lo sappiamo che è un fenomeno a sviare l'attenzione sui reali problemi quando gli conviene perché ragazzi la Roma ha dei giocatori che se adesso pensiamo che si spaventino di giocare sui temibili campi di Praga o che il Catanzaro ha un campo dove il fattore campo si sente di più o che ne so io la Juve Stabia a Praga o a Servetto oggi l'inferno di Ginevra è evidente che c'è dell'altro è evidente che in trasferta dove squadre anche di medio o di medio basso livello applicano una pressione maggiore vanno trovate delle contromisure a livello di gioco la Roma è la solita squadra monocorde monopasso ma finché in casa quando hai tempo e modo di gestire palla indisturbata di costruire di non essere aggredita ce la fai e poi non dimentichiamo che tante di queste partite non troppo in Europa dove hai stravinto le altre due che hai giocato ma in campionato l'hai comunque risolta con fatica alla fine e finisce finisce qui con il pareggio tra Servette e Roma il perfetto gironcino di andata di Europa League della Roma che aveva vinto in parte soffrendo a tiraspo l'aveva abbattuto con enorme merito Servette e Slavia Praga diventa un incubo nel ritorno perché non c'è risultato che può salvare la faccia dovrebbe vincere il Servette in casa dello Slavia Praga la Roma potrebbe scavalcarla perché in questo momento la Slavia a 12 la Roma è ferma a 10 ed è una grande delusione per la Roma non aver vinto neanche questa partita nonostante la scelta di Murigno di mettere in campo i giocatori migliori sostanzialmente perché insomma abbiamo oltretutto la beffa di avere Lukaku particolarmente stanco di avere Di Bala risparmiato solo 9 minuti e per un risultato ancora una volta deludente sia sotto il profilo della prestazione dal punto di vista tecnico-tattico sia sotto il profilo proprio della presenza in campo di una squadra che non riesce ad essere autorevole lontana dalle mura dell'Olimpico c'è l'insieme poco a poca coralità in un certo senso la fluidità poca perché questi errori non voglio mettere il campo perché poi la palla viaggiava erano propri tempi sbagliati o la palla troppo avanti o la palla troppo dietro non c'era questo tipo di sincronismo però dai è andata ma sai che cosa come devi comportare all'ultima partita è un turno è un turno diciamo di riposo devi portare a casa sempre il risultato però è un turno di riposo sarà un turno di riposo per tanti giocatori sicuramente qua c'è anche un tema insomma per quanto riguarda proprio la disposizione tattica in certe occasioni allora va detto che adesso sicuramente il disagio che stiamo provando effettivamente anche per una questione di natura di natura di risultato adesso ci si sta un po' rigredendo probabilmente su altri aspetti che potevano essere anche una disposizione differente in campo però però la Roma non ha sfruttato le sue occasioni e questo va detto rimaniamo rimaniamo a bocca aperta perché poi la sensazione anche quando la Roma vince quindi anche quando il risultato ti dà una mano come è successo in passato è sempre quella sensazione di precarietà ma perché è precaria la Roma cioè è stata costruita male questa squadra l'abbiamo detto per fortuna da svariato tempo continuiamo a dirlo però rimane una possibilità cioè comunque c'è il mercato adesso fate qualcosa sul mercato è un appello però però che senso c'ha sta partita contro l'avversario più debole perfettamente inutile perché l'hai resa tale veramente e noi ci stavamo ancora a fare i conti sulla differenza reti facciamo questo facciamo quello guys a fare i conti